Una cosa che ho notato è che la maggior parte delle persone quando parlano degli animali tendenzialmente nella loro testa stanno pensando soltanto a un piccolissimo gruppo di animali pensano semplicemente ai mammiferi, agli uccelli, ai rettili, al massimo ai pesci e basta bene, questo gruppo in realtà è molto piccolo, sono i cosiddetti vertebrati che sono soltanto una piccolissima frazione della diversità animale e quindi mi son detto, cerchiamo di fare un video per mettere bene in proporzione le cose per far vedere quanta diversità animale c'è nel nostro pianeta infatti per aver chiaro la biodiversità animale bisogna capire una cosa il grande albero della vita, in cui ci sono dentro tutti gli organismi viventi ha un grosso ramo in cui ci sono gli animali ecco questo grosso ramo, più che essere un albero a forma di albero è una sorta di grande cespuglio più di 600 milioni di anni fa c'è stata una grande esplosione di diversità biologica e si sono formati tantissimi grandi rami quindi appunto è più un cespuglio che un albero vero e proprio esistono più di 30 grossi rami ben separati gli uno dagli altri che i tassonomi tendono a chiamare fila al plurale o filum al singolare ecco, ogni filum ha una diversa struttura corporea un diverso sviluppo embrionale e si tratta sempre di gruppi molto poco imparentati gli uni con gli altri in altre parole ci sono più di 30 modi diversi di essere animali nel nostro pianeta pensate che tutti i vertebrati che abbiamo in mente appartengono soltanto a un filum insieme oltretutto a due gruppi che tendenzialmente tendiamo spesso a trascurare gli urocordati queste specie di sacchetti di muco che si trovano nel mare che sono veramente molto imparentati a noi e poi i cefalocordati noi siamo un filum e poi ce ne sono tanti altri ecco oggi vi parlo di tutti gli altri fila e vi faccio capire quanta diversità animale c'è in questo pianeta avrei potuto scegliere qualsiasi ordine? Ecco, ho scelto un ordine sparso, un po' particolare in ordine decrescente di familiarità all'inizio i fila più conosciuti e poi i fila meno conosciuti, via via prima però di immergerci in questo argomento vi parlo dello sponsor di questo video che è NordVPN NordVPN è un servizio che vi permette di avere una rete privata che vi può essere utile in tanti modi per esempio può aiutarvi ad anonimizzare la vostra attività online oppure può aiutarvi a gestire e cambiare la vostra geolocalizzazione questa cosa si fa cambiando i server di riferimento e in questo modo potete figurare di accedere a internet da una parte diversa del mondo è particolarmente utile se viaggiate andate all'estero in vari paesi le piattaforme italiane e alcuni servizi italiani non sono raggiungibili ecco che geolocalizzandovi con un server italiano potete accedere a un servizio italiano lo stesso accade se andate in un paese che blocca l'accesso a internet o che blocca parzialmente alcuni siti oppure viceversa potete figurare attraverso il server di un altro paese e poter accedere a servizi e piattaforme che non sono presenti nel nostro paese vi lascio in descrizione un link che dà degli sconti esclusivi alla mia community ovviamente con un periodo di prova soddisfatti o rimborsati vediamo il primo film che è quello degli artropodi lo conosciamo inevitabilmente perché tutti ci abbiamo a che fare questo è in larga parte dovuto al fatto che un gruppo degli artropodi cioè gli insetti sono il gruppo animale più diffuso al mondo la maggior parte degli animali sono insetti almeno per numero di specie e probabilmente anche per numero di individui gli artropodi sono questi organismi con gli arti articolati spesso hanno un esoscheletro di chitina e sono veramente molto vari perché oltre agli insetti ci sono tanti altri gruppi i crostacei sono tutti artropodi i miriapodi è un altro gruppo molto diffuso ma poi di nuovo c'è moltissima variabilità ci sono anche i chelicerati al cui interno si trova veramente di tutto dai limuli alle trilobiti che ormai sono estinte ma anche a altri animali come per esempio i ragni, gli scorpioni e altre specie simili una esplosione di biodiversità un secondo film relativamente conosciuto ovviamente è quello dei molluschi e questo è in larga parte dovuto al fatto che una fetta di questi animali noi li mangiamo ora la biodiversità dei molluschi è molto diffusa si trovano specie sia acquatiche che terrestri sono caratterizzati da un apparato boccale molto specifico con una radula che tende a grattare quasi via il cibo quando lo mangiano e moltissime specie spesso hanno dei gusci in carbonato di calcio i molluschi si dividono in vari gruppi ci sono quindi per esempio i gasteropodi che conosciamo molto bene noi le chiamiamo lumache, chiocciole per capirci esistono molte specie con il guscio sia acquatiche che terrestri ma anche molte specie senza guscio un gruppo di gasteropodi senza guscio molto bello che si trova proprio in mare è quello dei nudi branchi e sono veramente bellissimi poi c'è il gruppo dei cefalopodi fantastico, animali fantastici hanno un'organizzazione corporea complessissima e allo stesso tempo all'interno di questo gruppo di animali si trovano probabilmente gli animali non vertebrati con sistemi nervosi più complessi e con capacità cognitive più sorprendenti tra tutti gli animali ci sono poi i bivalvi che sono questo gruppo di animali molto diffuso che noi conosciamo molto bene è un po' il terzo gruppo di molluschi molto diffuso sono animali per lo più filtratori che tendono ad avere queste due valve quindi due strutture in vari sali che permettono la chiusura eventualmente di questi animali si trovano sia in acqua dolce che in acqua marina poi ecco in realtà ci sono anche animali meno conosciuti all'interno dei molluschi come per esempio i chitoni se siete appassionati di snorkeling se vi piace alzare i sassi sotto acqua che è una delle mie passioni gigantesche li avrete sicuramente visti oppure gruppi di organismi ancora più strani come per esempio gli scafopodi passiamo ad un altro film abbastanza conosciuto che è quello degli cnidari questo gruppo di animali con una simmetria radiata quindi non bilaterale come molti degli animali che noi conosciamo e che è veramente molto elegante e che si trova soprattutto in mare si trova soprattutto appunto nell'acqua marina ma si possono trovare forme anche in acqua dolce la variabilità degli cnidari è enorme perché? perché noi ce li immaginiamo per lo più solo come forma di medusa ma esistono anche molte specie in forma diciamo di polipo per non parlare del fatto che poi esistono svariate specie gruppi di cnidari che in realtà non sono altro che colonie di organismi che possono per esempio formare delle strutture di carbonato di calcio o di quarzo meglio sarebbe dire silice e che quindi vanno a costituire quelli che noi chiamiamo coralli un altro film che avrete sicuramente visto è quello degli echinodermi sorprendentemente sono animali molto imparentati a noi più di tutti gli animali che ho citato fino adesso hanno una simmetria radiata spesso cinque raggi o moltipli di cinque e sono specie echinodermata come dice il nome stesso che spesso hanno delle strutture che in un certo modo fungono da esoscheletro in carbonato di calcio o rivestito da spine e questo ha una certa utilità ecco nella protezione ci sono svariati gruppi di echinodermi quindi ecco che si possono trovare le oloture i cosiddetti cetrioli di mare i ricci di mare le stelle marine ma anche i gili di mare i cosiddetti crinoidei in questo gruppo di animali troviamo anche degli animali che sono in grado di nuotare un altro film abbastanza conosciuto è quello degli anellidi un gruppo che noi conosciamo abbastanza ma a ben vedere noi conosciamo un sottogruppo i cosiddetti oligocheti i vermi i lombrichi sarebbe meglio dire questo gruppo è fondamentale perché è un grande trasformatore del mondo hanno un ruolo fondamentale nel modificare il terreno in praticamente tutto il mondo a parte nel nord america e probabilmente anche in siberia dovrei verificare ma si quali sicuramente in siberia non ci sono i vermi ma oltre agli oligocheti ci sono altri due gruppi poco conosciuti da una parte abbiamo le sanguisughe un gruppo che noi forse esageriamo un po' perché appunto le abbiamo chiamato sanguisughe perché è vero alcuni gruppi di sanguisughe si nutrono anche del sangue dei mammiferi o di altri animali ma in larga parte sono predatrici di altri organismi di piccole dimensioni anzi spesso molto spesso anche vermi oligocheti per esempio infine c'è il terzo gruppo più diffuso in realtà degli anellidi che sono i policheti i policheti sono diffusissimi sono questi vermi che hanno le cosette chete che gli permettono di muoversi molto molto spesso anche di nuotare ok si trovano per lo più in ambiente marino o di laguna per capirci ci sono tantissime specie di policheti la più famosa nel nostro territorio nazionale è il cosiddetto vermo cane lo conosciamo perché lo si vede molto spesso soprattutto nel sud Italia e sappiate che in alcune parti del mondo e sto parlando per esempio del sud-est asiatico alcune specie si mangiano e sono anche considerate delle leccornie infatti non vedo l'ora di andare ad assaggiarli altro giro altro film e parliamo delle spugne il film dei poriferi perché poriferi portatori di pori le spugne sono un gruppo di animali filtratori che non hanno un vero e proprio sistema nervoso non hanno dei neuroni eppure l'informazione riesce a passare comunque da una parte all'altra dell'organismo anche spesso attraverso delle cellule ameboidi che si muovono all'interno della spugna bellissimo ecco le spugne ci danno un po' un'idea di come potevano essere i primi animali sulla terra qua è sicuramente filtratori qua è sicuramente l'unità fondamentale della filtrazione i cosiddetti coano-citi erano molto simili anche nei primi animali questo lo sappiamo perché i coano-citi sono abbastanza simili a un gruppo di protisti i coano-flagellati ed è del tutto probabile che i primi animali in assoluto sulla terra fossero delle colonie di coano-flagellati o organismi simili ai coano-flagellati che si sono organizzati e poi si sono divisi sempre più in funzioni diverse in gruppi di cellule diverse e da lì poi è esploso il mondo degli animali e stiamo parlando di più di 600 milioni fa probabilmente anche 8, 9, 100 dipendono è molto difficile capire quando siano iniziati veramente gli animali iniziamo a parlare di filum che magari qualcuno di voi non ha mai sentito e quindi ecco che parliamo dei nematodi i nematodi sono un gruppetto di vermetti spesso veramente molto piccoli spesso quasi invisibili se non appunto piccolissimi spesso bianchi o lattiginosi che noi purtroppo conosciamo soprattutto perché patogeni spesso sono patogeni delle piante alcune specie sono anche patogeni degli animali e anche degli esseri umani ma sarebbe fondamentale anche ricordarsi che hanno un ruolo fondamentale nella degradazione praticamente di tutto del mondo hanno un ruolo molto importante nel digerire un po' tutto quello che troviamo intorno un po' come fanno per esempio i batteri in parte anche come fanno i lombrichi nel suolo ecco per capirci tolti probabilmente gli artropodi i nematodi sono una grande quantità di animali proprio come massa ce ne sono veramente molti solo che ovviamente sono piccolissimi noi praticamente non li vediamo qui va citata una specie sea elegans che è una delle specie che abbiamo studiato più in assoluto insieme per esempio al moscerino della frutta o a una pianta specifica arabidopsis italiana ed è un organismo modello su cui si studia tantissimo della biologia cellulare di tutti gli organismi arriviamo agli ctenofori ctenofori che secondo me qualcuno di voi ha visto perché ci sono anche nei nostri mari assomigliano molto alle meduse eppure probabilmente non c'entrano moltissimo una medusa è più imparentata a noi che a uno ctenoforo c'è un lungo dibattito se gli animali meno imparentati che gli animali siano gli ctenofori o le spugne probabilmente sono le spugne e poi dopo gli ctenofori tenos significa pettine e infatti si chiamano così perché molte specie hanno dei pettini con cui cacciano meglio pescano esistono tutte delle famiglie dei gruppi che non hanno i pettini e molte di queste sono diffuse nel nostro territorio nazionale ecco moltissime di queste specie spesso sono bioluminescenti per cui sono anche bellissime da vedere arriviamo ad un altro film e parliamo dei platelminti anche conosciuti erroneamente come vermi piatti ecco tra parentesi dichiariamo una cosa avete capito che parlare propriamente di vermi non ha molto senso visto che la maggior parte dei modi di essere vita sono vermiformi ok? dopo ve ne parlerò anche di altri tipi per cui il termine vermi è una cosa un po' che tipo ai biologi un po' fa strano quindi o con vermi intendiamo gli anellidi di cui abbiamo parlato prima o tutti fila vermiformi però capite è un termine che non ha molto senso dal punto di vista biologico anche i platelminti si trovano in varie forme sia libere che anche come parassiti il parassita più conosciuto è sicuramente l'atenia ma ce ne sono anche molti altri che colpiscono anche l'uomo un aspetto interessante dei platelminti è che proprio per via della loro piattezza non hanno bisogno di un sistema circolatorio interno come magari hanno bisogno tantissimi altri animali questo è molto interessante perché se ci pensate significa che usano proprio la loro superficie molto ampia della loro pelle per scambiare con l'ambiente tantissime cose respirare in un certo senso l'ossigeno emettere la CO2 ma anche assorbire per esempio l'acqua e nel caso per esempio dei parassiti anche i nutrienti attraverso proprio la pelle un altro film abbastanza poco conosciuto se non fosse per internet in un certo senso è quello dei tardigradi un altro di quei gruppi di animali dei film di animali che va visto al microscopio non si può vedere ad occhio nudo e che assomiglia a dei piccolissimi orsetti a sei zampe che si trovano tendenzialmente in ambiente acquoso quindi li si vede spesso notare all'interno di gocce piccolissime di acqua se si guarda al microscopio questo gruppo di animali è particolarmente famoso per la sua forte resistenza a situazioni molto particolari infatti in molte specie di questo gruppo esiste uno stadio in cui vanno in cosiddetta anidrobiosi vita senza acqua in cui si seccano diventano delle cose molto piccole molto fine che possono resistere tantissimo con una quantità minima di acqua e in quelle condizioni possono resistere a temperature altissime o bassissime appunto nei deserti in tantissime situazioni diverse per poi riattivarsi eventualmente con l'arrivo di più acqua parliamo adesso di uno dei miei film preferiti che è quello degli onicofori io li trovo tenerissimi nonostante siano praticamente la fusione di un verme e di un insetto ma capite queste distinzioni ormai non hanno moltissimo senso vengono anche chiamati vermi di velluto vellutati ma ovviamente hanno le zampette infatti sono molto più imparentati agli insetti che per esempio agli anellidi si conta pochissime specie che si trovano tutte nell'emisfero australe e sono animali cacciatori vanno per lo più a caccia di insetti spesso spruzzando un muco tipo spider-man ok che permette di bloccare momentaneamente gli insetti prima di essere predati gli unicofori oltre ad essere meravigliosi e bellissimi hanno un primato sorprendente potrebbe colpirvi è l'unico film esistente conosciuto in questo momento sulla terra a non avere specie acquatiche e in particolare specie marine tutti i film che vi ho citato fino ad ora e tutti quelli che citerò hanno sempre almeno delle specie acquatiche questo perché tutti i film sono nati nell'acqua nel caso degli unicofori i loro antenati sono nati nell'acqua il film è nato nell'acqua poi hanno colonizzato la terraferma ma si sono estinte le specie acquatiche e quindi ci sono solo le specie terrestre almeno è quello che sappiamo questa cosa per me è pazzesca e bellissima è un primato unico altra corsa ecco che parliamo di un film un po' inquietante almeno per me lo è sempre stato anche perché di solito è uno dei primi che si studia ed è quello dei nemertini nemertini quindi ricorda molto il mare e infatti è un gruppo di usiamo sempre questo termine vermi animali filiformi acquatici che però possono diventare veramente molto grossi alcuni nemertini possono tranquillamente superare le decine di metri soprattutto quelli che vivono in ambienti molto freddi per esempio nell'artide un aspetto interessante di nemertini è che nonostante tutta questa grandezza possano semplicemente enormi proprio grazie a questa piattezza e questo ricorda un po' i platelminti non hanno un sistema chiuso proprio fatto finito come per esempio ce li hanno gli anelli di e quindi ecco che anche loro hanno un importante scambio con la pelle moltissime specie hanno una proboscide che possono estroflettere per mangiare le proboscide possono essere fatte in modo molto strano con forme anche molto strane e infatti esistono dei video su internet tendenzialmente quei video in cui dicono oh mio dio cos'è questa cosa è sicuramente un alieno ecco molto spesso sono nei mertini che stroflettono la proboscide ma a proposito di video online e probabilmente il record lo vince un altro gruppo un altro film diciamo vermiforme ed è quello dei nematomorfi ecco penso che sia il film che in un certo senso è il più famoso su youtube in generale sono dei parassiti esistono solo forme parassite degli insetti o di altri artropodi il nome nematomorfi ricorda molto quello dei nematodi infatti la forma è più o meno sempre quella dei vermi molto molto fini con delle distinzioni importanti infatti i nematomorfi sono molto resistenti hanno una cuticola molto molto dura ma è successo di toccarli e vivono per lo più come parassiti degli artropodi perché dico per lo più perché hanno anche una fase libera ed è quella in cui io per esempio l'ho trovato per esempio anche nei miei acquari mi è successo anche di avere dei nematomorfi nei miei acquari cosa succede? molto semplicemente questi nematomorfi che hanno infettato un artropodi a un certo punto lo spingono a andare nell'acqua a ricercare l'acqua e appena l'insetto tocca l'acqua o cade nell'acqua ecco che il nematomorfo esce e da qui tantissimi video su internet c'è perfino un mercato di artropodi infettati da nematomorfi che si può trovare in giro e poi ovviamente dentro questi specchi d'acqua i nematomorfi si riproducono se poi gli artropodi bevono da quest'acqua ecco che si possono contagiare e quindi poi eventualmente portare in giro questa specie parlo di un altro film in parte perché è imparentato a quello di nematomorfi che vi ho appena citato ed è quello dei priapulidi vivono in acqua marina tendenzialmente detritivori e che sono famosi o meglio il nome stesso nasconde un fenomeno un fatto una similarità assomigliano abbastanza dei peni infatti priapulidi deriva dal dio greco priapo che non credo posso dire che era il dio dei peni beh una cosa del genere tanto che esiste una malattia che si chiama priapismo che è proprio quella legata alle persone che hanno sempre il pene in erezione o delle forme molto durature di erezione che ovviamente è patologico e può fare anche malissimo ma questa è un'altra storia bene adesso andiamo sul raro quasi tutti i fila che vado a citarvi da adesso in poi non li avete probabilmente mai sentiti a meno che non abbiate fatto un corso di zoologia parliamo di loricifera un gruppetto di bestioline scoperte solo nell'83 quindi 1983 che vivono adesi ai granelli di sabbia in alcune spiagge capite bene perché li hanno scoperti soltanto nell'83 sono piccolissimi hanno visto il microscopio e si trovano solo in quelle condizioni e se vengono tolti da lì ovviamente muoiono per il resto si sa veramente molto poco giuro cioè questo c'era da dire lo stesso si può dire per i chinorinca sono sempre un gruppo che vivono nei sedimenti qui parliamo però di sedimenti marini non proprio esclusivamente delle spiagge se ne conoscono circa otto famiglie e appunto vivono in framezzati in questi sedimenti in questi sedimenti pensate esiste un sacco di vita proprio nella sabbia un altro film relativamente simile è quello dei gastrotrichi si trovano però questi in acqua tendenzialmente sia marina che anche d'acqua dolce quindi potete eventualmente trovarli se andate col microscopio a guardare per esempio nelle gocce degli stagni un altro gruppo veramente poco conosciuto è quello degli camptozoa sono sempre animali acquatici filtratori assomigliano dei fiorellini ok che filtrano l'acqua e in questo probabilmente assomigliano in un certo senso ai coralli ma vedremo non è l'unico gruppo che ha questa caratteristica di essere dei fiorellini che filtrano l'acqua e qua c'è probabilmente una forte convergenza evolutiva e come notate moltissimi fila diversi sono filtratori questo perché i nutrienti nei mari sono veramente molto abbondanti quindi non è un caso che la vita inizialmente si sia diffusa soprattutto sotto forma di filtratori e che poi sia rimasta molto diversificata in questo modo perfino alcuni vertebrati sono diventati filtratori del mare pensate alle balene il campo zoo si conoscono circa 150 specie marine e solo una acqua dolce vi parlo poi di quello che è probabilmente uno dei film più rari al mondo l'ultimo scoperto ed è stato scoperto nel 1995 e parliamo dei cicliofora pensate che è talmente tanto esclusivo che vive soltanto sul labbro inferiore degli astici quindi a lato pratico in questo momento ci sono sostanzialmente due specie uno adeso all'astice americano e uno all'astice europeo chissà se scopriremo altri fila nei prossimi anni e chissà se hanno questa puntiformità e in più questo fa anche capire la fragilità di alcuni organismi di interi fila o famiglie pensate a questo gruppo molto specifico se domani si stingono gli astici abbiamo perso un intero film della vita pensate che cosa assurda a meno che in realtà non lo sappiamo abbiamo studiato bene gli astici perché magari ci sono degli interessi commerciali ma scopriamo che in altre parti possiamo trovare dei cicliofora magari lo spero in un certo senso ulteriore gruppo di piccoli animaletti che si muovono all'interno della sabbia è quello degli ignatostomulidi che come dice il nome hanno delle grosse ignato mascelle hanno dei mascelloni in un certo senso e vanno proprio a caccia con queste mascelle di vari organismi di cui si nutrono per lo più funghi parliamo poi dei rottiferi un altro film di animali acquatici questi per lo più d'acqua dolce e questo è interessante perché di solito per lo più di acqua marina sono animali che vivono sia sul sedimento che in forma libera e che hanno queste rotiferi hanno queste cose che asseminano delle ruote in realtà sono semplicemente delle ciglia che possono essere o singole o a coppie che creano un vero e proprio flusso di acqua che permette di nutrirsi in un certo senso di filtrare l'acqua volte a essere molto carini sono molto importanti all'interno degli ambienti d'acqua dolce perché possono essere alla base di intere reti alimentari ecco nota di merito all'interno dei rotiferi c'è una famiglia i rotiferi dell'oidei che vivono in praticamente delle pozze nelle montagne che tendono per esempio a prosciugarsi e poi a tornare in vita in un certo senso e qui si trova l'unica famiglia in cui ci sono animali che per certo almeno per ora sappiamo non fanno sesso non hanno la riproduzione sessuata è l'unico gruppo di animali in cui non si è mai vista la riproduzione sessuata parliamo poi dei foronidi animali filtratori di nuovo che anche loro hanno un meccanismo per aumentare molto la superficie per filtrare l'acqua in questo c'è una interessante convergenza evolutiva con un altro gruppo di animali che è quello ovviamente degli spirografi guardateli hanno questa creatistica che tendono a filtrare l'acqua attraverso queste diciamo quasi piume ecco in questo sono simili agli spirografi che però ricordiamo ci sono anellidi quindi sono più imparentati ai lombrichi anzi sono molto simili a dei lombrichi che però filtrano l'acqua e anche qui un altro caso di convergenza evolutiva e un altro caso di specie filtratrice perché capiamoci la filtrazione domina un altro film molto interessante è quello dei brachiopodi brachiopodi perché quando parliamo di convergenza evolutiva ecco qui forse abbiamo un esempio enorme i brachiopodi sono organismi filtratori d'acqua per lo più marina anzi esclusiva in acqua marina che filtrano appunto quest'acqua lo fanno all'interno di una struttura che si apre e si chiude in spesso carbonato di calcio per molti versi quindi assomigliano moltissimo a dei bivalvi ci sono delle distinzioni i brachiopodi tendenzialmente hanno un peduncolo che esce e che gli permette di rimanere adesi per esempio al substrato come per esempio un fondale un aspetto interessante dei brachiopodi ha a che fare proprio con l'evoluzione e soprattutto l'evoluzione su tempi lunghissimi questo è un film che ha avuto un larghissimo successo nel passato ha superato praticamente tutte le grandi estensioni di massa senza grossi problemi pensate che questo gruppo ha appunto dominato i mari per centinaia di milioni di anni finché a un certo punto sono successe due cose non a parte l'ultima grande estensione di massa quella dell'asteroide dei dinosauri per capirci ha dato una bella botta a questo film dall'altra parte in quel momento stavano immergendo stavano iniziando diffondere in modo vistoso i bivalvi quindi i molluschi bivalvi e questi probabilmente hanno creato una competizione fortissima con i bracchiopodi e li hanno scalzati da tantissime nicchie ecologiche tanto che in questo momento sicuramente tra i due i bivalvi sono quelli che ce la stanno facendo molto meglio ma chissà magari fra 100 200 milioni di anni i bracchiopodi torneranno grandi ancora altro film in un certo senso da record ed è quello del placozoa partiamo da un fatto è un film molto particolare molto semplice è probabilmente insieme alle spugne il film meno imparentato a tutti gli altri animali è forse imparentato con le spugne anche se non è del tutto chiaro ed è semplicissimo anzi in realtà ne parlo al singolare perché ne esiste una sola specie sto parlando di tricoplax aderens scoperto in un acquario marino ed è un animale semplicissimo fatto soltanto da 4 tipi di cellule e quindi questo organismo è semplicemente una gelatina diciamo che si muove nonostante questa pochissima complessità e anche un altro primato perché è l'animale con il minor contenuto di dna per cellula arriviamo quindi ai briozoi che sono imparentati ai camptozoi e in un certo senso sono un gruppo di animali che ha una certa forma di convergenza con i coralli sono animali formati da coloni e sessili in cui ci sono tanti piccoli zoidi che sono delle specie di individui anche se appunto individui non è la parola giusta perché vivono in colonie in cui sono differenziati in parti diverse che hanno funzioni diverse quindi ci sono individui che hanno il ruolo di filtrare individui che hanno il ruolo di portare i nutrimenti da una parte all'altra della colonia e individui che hanno il ruolo di riprodursi come i coralli formano delle strutture schelettriche anche se queste strutture schelettriche assomigliano ricordano un certo tipo di piante un gruppo di piante le cosiddette epatiche che appartengono al gruppo delle briofite da qui il nome briozoi parliamo poi dei chetognati sono un gruppo di animali molto particolari secondo me sono tra i gruppi animali che massimizzano di più la funzione tipo del rapporto figata su quanto sono conosciuti ok sono un gruppo di animali tendenzialmente abbastanza piccoli che si trovano nei mari i più grandi massimo raggiungono i 12 centimetri che assomigliano a delle frecce praticamente degli animali che possono tranquillamente nuotare un po' come fanno i pesci un po' come fanno i cefalopodi anzi c'è proprio una convergenza evolutiva con questi gruppi di animali che hanno delle grosse mascelle hanno una cuticola che li riveste e semplicemente sono dei predatori quindi ecco che se si trovano davanti un crostaceo si trovano davanti un piccolo pesce come una freccia ci vanno addosso lo mordono è un altro caso di questo tipo di convergenza evolutiva di animali nuotatori ben direzionanti con una buona organizzazione anteroposteriore chissà magari in un mondo alternativo in realtà i vertebrati hanno avuto scarso successo i chetognati invece sono diventati dei fighi e gli oceani sono pieni di chetognati al posto dei pesci parliamo poi degli micordati che sono un gruppo molto imparentato a noi tra i fila più imparentati al nostro sono molto imparentati agli echinodermati quindi appunto alle stelle marine per capirci che vengono chiamati vermi ghianda in inglese questo gruppo di animali appunto scava delle gallerie e si mangia i detritti una cosa interessante è che lasciano dei cunicoli abbastanza tipici tanto che si possono fossilizzare e ritrovare in sedimenti fossili sono contentissimo di aver fatto questo video oltretutto non so se l'avete visto ma l'ho anche girato anche in pezzi diversi in momenti diversi probabilmente avrò sarò anche vestito in modo diverso va benissimo così spero di avervi dato una buona panoramica della diversità biologica animale che è molto più abbondante della biodiversità dei vertebrati che è tendenzialmente quella che noi conosciamo bene con questo io vi ringrazio tantissimo vi ricordo che questo progetto è finanziato anche e soprattutto grazie a voi per esempio alle vostre donazioni vi lascio nel primo commento dei modi per supportare questo progetto e vi ringrazio sempre di tutto ciao a tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti